Ciao, mi chiamo Dani. Vivo negli Stati Uniti e vivo con la mia famiglia. Mi occupo di sicurezza informatica. Sto imparando l'italiano. Ho cercato di imparare l'italiano per alcuni anni ma non ho avuto il coraggio di esercitarmi a parlarlo. Quindi in questo momento ci sto provando. Dimmi come sto. Ciao a tutti e a tutti. Ciao.